signori buongiorno e bentornati sul canale del master kai io sono il master kai il vostro ospite su questo canale appuntamento oramai diventato fisso con le vostre proposte per la rubrica dello scrivere una quest per chi fosse la prima volta che vede questi video in questi video speciali intrasettimanali io prendo tutte le proposte che sono arrivate per la trama della quest che stiamo scrivendo collettivamente come canale le leggo e do una mia opinione personale in merito questo serve sia per ringraziare quelli che partecipano sottoponendo le loro proposte sia quelli che votano per decidere qual è la proposta che verrà scelta per il mese che viene ovviamente se non ci fossero quelli che mandano le proposte e quelli che votano le proposte questa rubrica non potrebbe esistere quindi è il minimo che posso fare per ringraziarli finiti i convenevoli torniamo a noi questa settimana andiamo a vedere quali sono le proposte per i vostri soggetti cioè quale sarà la linea narrativa orizzontale della quest ok partiamo subito perché questo mese meno proposte devo essere sincero me lo aspettavo in realtà ero sbalordito della quantità che è arrivata nei mesi scorsi però questa è la prima volta che cominciamo a fare qualcosa di effettivamente tecnico impegnativo e anche solo scrivere tutta la proposta era un'attività lunga quindi non mi aspettavo la stessa partecipazione delle altre volte però in realtà sono arrivate comunque molte proposte quindi andiamo a vederle come sempre io le prendo nell'ordine in cui me le visualizza youtube non so quali siano arrivate prima e quali dopo ok cominciamo con gianluca vecchi che uno preciso e ho mandato un soggetto molto schematico il morto è un membro minore del consiglio cittadino non molto in vista né molto agguerrito politicamente ma molto amico di alcuni dei personaggi più in vista del panorama politico locale aveva agganci con i membri più ambigui dei puri e aveva informazioni su molti membri influenti di tutte le fazioni e anche di alcuni personaggi in vista della città lo potremmo definire il vicino della situazione all'apparenza una brava persona ma infame come pochi aveva un collega d'ufficio così ovviamente la società non ha idea di che persona sia lui stesso e agli occhi dei pg è un personaggio positivo perché è stato ucciso la donna visto che abbiamo citato la fan fatale di un esponente dei meccano baroni maghi si è vista ricattata per alcuni suoi vizi dal morto affinché facesse pressioni su un politico per far passare l'ordinanza sperava che finisse lì ma il morto ha insistito e la donna per preservare il buon nome del suo uomo ha ucciso il morto risoluzione del delitto chi la donna di qui sopra l'ha ucciso come la donna si è procurata una modifica tecnomagica non molto legale che le ha dato i mezzi e le capacità per commettere l'omicidio immagina una cosa tipo matrix in cui le viene iniettata un qualcosa che la trasforma in una sorta di assassino e perché no gli dia pure accesso a una serie di incantesimi per un tempo limitato volendo espandere il come prendendo spunto da una villa in dei fumetti la png potrebbe essere ispirata a poison ivy potrebbe averlo convinto a un incontro intimo avvelenato in qualche modo oppure averlo fatto strangolare dalle piante che il tipo aveva in casa o ancora aver portato lei stessa una pianta e fatta in modo che quella pianta l'avesse ucciso tutto questo dove porre il dilemma morale al gruppo sul come comportarsi sia con l'omicida sia con il morto oddio dilemma morale sicuramente ricattare la gente non è qualcosa di bello da fare però strangolare i ricattatori con le proprie piante magiche forse una reazione un tantino eccessiva gianluca comunque uno di quelli che ha tagliato corto con la struttura degli atti e in realtà si è concentrato sulla linea narrativa orizzontale dell'assassinio vero e proprio quindi non parla assolutamente delle indagini al di là di dire che i personaggi erano amici del morto come lo chiama diciamo che di per sé la storia ha senso ovviamente non può essere fatta da sola perché questa è solo metà della quest bisogna sapere poi cosa dovranno fare gli avventurieri per scoprire che è stata la donna prossima proposta di fabio grasso che è una new entry si una new entry la vittima era un eccentrico milionario che finanziava vari gruppi che facevano ricerche in campi che lo interessavano diciamo un gruppo per fazione più gli avventurieri che recuperavano per lui robe antiche dai dungeon nel primo atto gli avventurieri tornano in città per consegnargli della roba e lo trovano morto con la polizia all'inizio vengono sospettati ma il fantasma sa per certo non possono essere stati loro magari perché erano via dalla città proprio per fare una missione dato che la polizia è corrotta il fantasma li ingaggia per scoprire l'assassino qui possono vedere la scena del crimine e parlare anche con il fantasma le indagini li portano in giro per la città magari in zona controllata dalle varie fazioni come una fabbrica per i meccano baroni la biblioteca dei maghi e il bar dei nazi ok abbia detto partito populista questa è una tua leabolazione alla fine troviamo il cadavere dell'assassino con un relativo fantasma che gli dice che lui non era stato mandato lì per uccidere la vittima ma per rubare un oggetto non lo ha trovato e la vittima lo ha sorpreso quando è tornato al suo contatto senza l'oggetto questo l'ha ammazzato nella seconda metà dell'atto vengono chiamati tutti al notaio perché aveva reso beneficiari del suo testamento tutti questi gruppi e poi immagino il morto ma dopo che lo hanno ammazzato ha deciso di togliere il gruppo responsabile del delitto a testamento e destinare quella parte agli avventurieri che alla riunione sono presenti tutti i sospetti così gli avventurieri possono parlarci fino alla fine dell'atto controllano gli alibi e scoprono qual è la fazione che ha commissionato l'omicidio chi sia stato non è importante si potrebbe dire che quelli che i giocatori sospettano sono i colpevoli come dici nel video sull'illusionismo quando gli avventurieri lo hanno capito il gruppo colpevole però tornato a casa della vittima ha rubato l'oggetto e si è barricato nel suo quartiere generale che è uno dei posti che hanno già visto nel primo atto nel terzo atto vanno alla base della fazione colpevole per catturarli prima della votazione il colpo di scena è che l'oggetto che cercano è un anello dei desideri la vittima aveva espresso i primi due voglio essere ricco non voglio morire di vecchiaia e quelli che lo hanno rubato hanno chiesto vogliamo essere il gruppo più temuto della città ok questa questa è veramente questa è veramente buona perché non solo fabio fabio si non solo fabio ha proprio fatto una scaletta in base alla struttura e gli atti ma ha fatto praticamente la quest completa tra l'altro personalmente mi piace molto il twist questo è credo tutti sia ispirato alla zampa della scimmia però questo diciamo è un classico trope del i tre desideri il genio malvagio che distorce i desideri l'unica cosa forse che potrebbe dare fastidio è che questo twist toglie totalmente agency ai giocatori perché in realtà chi con la fazione che ha rubato l'anello perfino il desiderio si è suicidata non sono stati gli avventurieri a essere bravi a risolvere la quest ma in realtà è stato il desiderio che i cattivi hanno espresso a fare in modo che gli avventurieri andassero ad ammazzarli c'è anche da dire che i desideri espressi in questo modo sono molto fraintendibili cioè ok che uno abbia detto non voglio morire di vecchiaia e quindi è morto ammazzato voglio essere ricco e quindi era ricco ok vogliamo essere il gruppo più temuto della città perché avevano detto vogliamo essere il gruppo più potente della città che sarebbe stato anche molto più in linea con quello che volevano però diciamo che tranne queste minuzie che probabilmente se questa quest venisse portata al tavolo così come probabilmente i giocatori giocando non se ne accorgerebbero se ne accorgerebbero dopo fintanto che il master riuscisse a mantenere la sospensione dell'incredibilità sembrerebbe sensato comunque diciamo questa è una di quelle più complete c'è sia quello che devono fare gli avventurieri sia qual è l'altra linea narrativa orizzontale cioè quella dell'omicidio ci sono vari personaggi c'è anche un twist finale quindi questa diciamo è probabilmente la migliore se non una delle migliori che sono arrivate passiamo adesso a flu talkings anche lui un abitue della serie i personaggi sono tra i migliori amici di infanzia del mega presidente vengono da noi invitati a cena per una rimpatriata nella sua villa la mattina seguente il presidente viene ritrovato morto dove ammette il sonno dalla moglie che si sveglia di fianco al cadavere dall'allarme la causa del decesso pare l'ingestione di un particolare veleno ad azione ritardata dal quale non si può risalire all'esatto momento dell'assunzione di certo entro le 24 ore precedenti al decesso stimato torno alle 3 del mattino vengono chiamati per questo alle forze dell'ordine locali come possibili indiziati la moglie i personaggi gli esponenti di ogni fazione sono passati all'ufficio del presidente in quella giornata per discutere gli ultimi accordi prima dell'approvazione di un nuovo emendamento relativo alla concessione dell'uso di incantesimi di livello maggiore da parte dei maghi al termine dell'interrogatorio pare il personaggio il fantasma del mega presidente che li esorta in nome alla loro amicizia indagare sul colpevole a fare giustizia essendo convinto che non siano loro i colpevoli e nemmeno la moglie e non sarà libero di andarsene da questo fiano fino a che il caso non sarà risolto questo è molto il canto di natale atto due i puri non vedono di buon occhio questo emendamento in quanto contro natura ma rivedere tornare in vita qualche famoso criminale non dispiacerebbe loro sono tra i principali sospettati essendosi a volte rileverati mandanti di alcuni attentati i mecha baroni sono dichiaratamente contrari a questa legge in quanto vedrebbero sfumate le rendie delle loro tecnologie anti invecchiamento ritardo a morte e la possibilità che si possano riportare in vita persone che potrebbero rivelare scomode verità in merito ai loro controlli mentali la gilda e la magia è da sempre desiderosa di accrescere e ampliare le sue possibilità magiche ma giravoce che qualcuno si stesse opponendo all'interno per boicottare la cosa l'opposizione vede tra i suoi esponenti la moglie del mega presidente la quale abbia avvelenato di sua spontanea volontà il marito perché non passasse la legge in quanto aveva ricevuto minacce di morte se fosse passata atto 3 quando i personaggi vanno dalla fan fatale la trovano anch'essa morta quando si recano all'obitorio per scoprire il motivo del decesso il medico legale entrato durante le indagini in confidenza dei personaggi rivela loro la presenza di componenti ad alta tecnologia e controllo mentale installate da parte dei mecca baroni all'interno del corpo della moglie e il mega presidente recuperano il chip specifico legato a questo controllo e riescono a risalire tramite una sorta internet runner al controllo rediretto i personaggi dovranno così recarsi con questa prova al centro di controllo segreto del mecca barone anche per flutthalkings un twist finale per cui sembra che sia stata la moglie ma in realtà sono stati meccano baroni lui li chiama mecca baroni e bellino il fatto che i meccano baroni per lui abbiano un capo che si chiama il meccano barone che ha senso come cosa il problema con questa è che nonostante sia divisa in atti cosa succede negli atti e delineato a malapena perché ok nel terzo atto loro dovrebbero trovare il patologo con cui sono entrati in confidenza però non è prevista nessuna scena precedente in cui loro entrino in confidenza col patologo quindi di per sé questa dovrebbe ancora essere rielaborata per avere anche un'idea di quello che i personaggi dovrebbero fare se la tua idea era quella di lasciare che i personaggi indagassero da soli a questo punto però non dovevi prevedere che loro conoscessero dei png a avrebbe avuto più senso fare una cosa come ha fatto fabio grasso cioè dire indifferente che sia l'assassino lo decidono i personaggi durante il gioco però come come idea di base è buona anche questa come quella di don vecchi non può essere utilizzata da sola però passiamo adesso all'utente preferito del canale gianni augurale che cercherà di salvarsi dal suo terribile destino di essere bloccato all'interno è un gioiello per chi non ha seguito la continuity del canale c'è un motivo sensato perché sia successo vi linko piuttosto qui il video guardate atto 1 l'attuale reggente politico il miglior presidente amato da tutti viene trovato morto nel suo studio dai suoi assistenti personali ipg analizzando il corpo l'unico indizio che trovano il suo medaglione rosso ambra che appena impugnato da uno ipg fa materializzare uno pseudo spettro del miglior presidente amato da tutti meccanicamente direi che è fatto come una spell di parlare con i morti a comando il miglior presidente amato da tutti era l'esponente di spicco di un partito neutrale che metteva in primo piano nella sua agenda l'unità della nazione lo spettro in relazione alla sua morte non sa rispondere come è stato ucciso l'unica cosa che ricorda è solo che si era messo nella sua scrivania a lavorare per redigere una bozza di legge su questa affannosa questione della regolamentazione sull'installazione di impianti meccanici l'unico indizio a disposizione dei pg sarebbe quindi la sua bozza di legge che a una rapida lettura sembra sì continuare a permettere l'uso di impianti cibernetici ma penva limiti e vincoli fornendo ai pg come unica pista proseguibile quella di un possibile complotto della fazione dei meccanobaroni il giorno dopo prende il potere ad inter in secondo politico di spicco del partito neutrale preferibilmente da presentare come alleato il pg che subito accusa pubblicamente la fazione dei meccanobaroni accendendo di fatto la miccia per lo scopo in una guerra civile i pg indagheranno sui meccanobaroni scontrando fissi più volte atto 2 scoprire successivamente a seguito delle loro indagini che secondo comando è in realtà un purista che alleatosi con la fazione magica vuole far fuori i meccanobaroni e tutta la tecnologia degli impianti che ne consegue i pg verranno quindi accusati di convivenza con i criminali meccanobaroni e si ritroveranno volenti o nolenti in uno scontro con le altre due fazioni al fine di ripulire il buon nome loro e dei meccanobaroni i pg affronteranno quindi il presidente a interim riuscendo a sconfiggerlo ma questo fornirà l'alibi alla confraterna dei maghi per prendere il potere atto 3 per sconfiggere i capi dei cattivi di turno maghi anziani i pg dovranno dare il gioiello del fantasma del miglior presidente amato da tutti e i meccanobaroni che provvederanno tramite impianti a renderlo un gundam gole cibernetico capace di sconfiggere i malvagi silero alla fine il miglior presidente amato da tutti ok allora ovviamente il finale è uno scherzo per cercare per l'ennesima volta di ritornare in vita ma tanto nessuno glielo permetterà mai comunque volendolo prendere seriamente no il boss finale deve essere sconfitto dai pg se no la storia avrebbe poco senso questo va da sé gianni lo sa ma nel caso qualcun altro ascoltasse il video magari un neofita no far uccidere il boss finale da un png controllato dal master non si fa neanche se quel png è gianni soprattutto se quel png è gianni per il resto anche gianni ha usato la struttura tipica degli atti anche gianni ha previsto sia le possibili azioni dei pg si è concentrato meno sulla storia dell'omicidio più che altro l'unico punto che farei a questa è che ha barato perché si è detto che la città doveva avere tre fazioni ma lui ne ha inserita una quarta quella del morto tecnicamente no non si fa perché questo vorrebbe dire cambiare qualcosa già deciso precedentemente se si sta lavorando da soli su una quest che si sta scrivendo per i fatti propri uno può cambiare tutto quello che vuole se a questo punto vedeste che gli servirebbe una quarta fazione la introduce e non deve rispondere a nessuno ma essendo un lavoro corale se tutti cominciassero a ridiscutere idee già precedentemente decise non si finirebbe mai quindi no sicuramente non può esserci una quarta fazione perché è stato deciso di tre comunque anche questi sono tutti elementi che sono utili vedremo poi di mischiarli con le altre questo tra l'altro uno di quelli che ha ricevuto più voti insieme a quello di fabio se non sbaglio ultimo ma non ultimo carstein un altro abituè della rubrica del canale a in questa fase vorrei limitarmi a proporre soltanto una semplicissima idea se compatibile come fassa sconfitta proporre il fantasma come vittima involontaria il png che l'ha ammazzato a cui puntano tutte le indagini a ragione e uno tra i meccano baroni uscito completamente pazzo fuori controllo ma di allineamento buono per intenderci è uscito solo fuori di testa per via di tutti gli innesti che ha avuto questo è proprio cyberpunk ma quando non sapeva nemmeno il fantasma il che viene tenuto come canna al guinzaglio da un arcanista senza sostituzioni molto potente che la sorella minore senziente spettata e anche in questo caso torna la fan fatale carstein propone un troppo tipico del cyberpunk in generale ma proprio di del gioco di ruolo cyberpunk 2020 che troppi innesti ti fanno calare il valore di umanità e quindi portano al cyber berserk a perdere il personaggio è un cliché quello del l'uomo che sostituendosi con le parti diventa pazzo potrebbe essere utile come sottotema filosofico sul fin dove arriva la natura mortale cosa del genere in realtà una cosa che è apparsa anche se in maniera diversa in varie quest e che l'assassino è una persona che però non è in realtà il mandante dell'assassino e qua lui dice la sorella del cyber pazzo la moglie del che è stata ingannata da un'altra dei meccanobaroni l'amante ricattata che uccide quello che la ricattava quindi credo che nella quest finale ci sarà un twist di questo tipo adesso devo vedere comunque per questo video è tutto ringrazio di nuovo tutti quelli che hanno mandato le loro proposte e tutti quelli che hanno perso il tempo per votare le proposte senza di loro la rubrica non potrebbe esistere io adesso mi metterò a vedere tutte le cose molto ovviamente la priorità verrà data a chi ha ricevuto più voti ma avendo ricevuto relativamente meno proposta questa volta forse si riuscirà a fare una roba che le comprende tutte tra cui il twist che dicevo adesso devo vedere voi questo video dovreste vederlo mercoledì quindi giovedì venerdì sabato domenica tra quattro giorni sempre ammesso che sia riuscito a caricarlo dovreste vedere poi qual è stata la decisione finale io ci lavorerò domani per il resto come sempre se avete domande dubbi perplessità lasciate un commento qui sotto se il video vi è piaciuto lasciate un like e condividetelo che aiuta a crescere il canale io sono il master cae noi ci vediamo nel prossimo video